Padre Massimo ci sei? Sì, mi sento, io vi sento, non so se mi sentite voi. Sì, adesso riusciamo a sentirci e la vedo anche in video. Perfetto, abbiamo risolto questo intoppo che ci ha creato un po' di grattacapi negli ultimi minuti, ma per fortuna grazie alla nostra regia siamo riusciti a risolvere tutti i problemi. Ecco, mi sarebbe dispiaciuto davvero tanto non poter aprire almeno una parentesi dedicata a questa serie di progetti. Come vi dicevo, ho anticipato appunto il senso di queste iniziative che vedono i giovani protagonisti in comunità in un tempo, quello estivo, che per lo più viene pensato come tempo di svago, di disinteresse, di vacanze. Invece è un'ottima opportunità per fare comunità, è vero Padre Massimo? Esattamente. È una proposta che è nata dalla Fondazione Un Mondo a Colori, che è questa associazione nata nella memoria e nel ricordo di Mariana Boccolini, di cui anche voi avete fatto una bella testimonianza, avete dato una conoscenza. La proposta è di vivere in tempo insieme di 15 giorni nello spirito delle beatitudini, secondo la vita che facevano i primi discepoli di Gesù, la prima comunità cristiana. E questa proposta, ormai siamo alla sesta edizione dell'esperienza, è nata da parte di alcuni ragazzi che avevano partecipato a degli incontri di formazione, avevano ascoltato delle catechesi e al termine di queste catechesi ci avevano detto, d'accordo, bellissimo quello che il Vangelo ci propone, ma dove lo possiamo sperimentare, dove lo possiamo vivere? Allora quella parola del Vangelo, dove due o più sono uniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro, l'abbiamo raccolta e abbiamo cercato di incarnarla, proprio nella vita, nella vita di tutti i giorni, offrendo a questi ragazzi la possibilità di fare un'esperienza di comunità, secondo lo spirito degli atti e degli apostoli, prima comunità cristiana. Bello, davvero una bella iniziativa questa Padre Massimo, tra l'altro non abbiamo il tempo di vederlo per intero, il promo che avete realizzato relativo appunto a questa iniziativa, ma perlomeno possiamo vedere delle immagini mentre scambiamo ancora due riflessioni su questo appuntamento, su questa serie di momenti così importanti. Dicevamo della figura che abbiamo già trattato in altri contesti, nell'ambito della nostra programmazione, quella di Marianna Boccolini, che sicuramente è un esempio che ci fa piacere poter portare ancora all'attenzione del nostro pubblico. E possiamo vedere da queste immagini il sorriso che caratterizza questo vivere fraternamente in comunità. Ecco, Padre Massimo, secondo te perché un giovane dovrebbe vivere almeno una volta nella vita un'esperienza del genere? Ma guarda, ti risponderei, e questo è anche l'invito che lancio a tutti i giovani che sono in ascolto dai 18 ai 33 anni, chi desidera farlo, abbiamo ancora spazio per partecipare, troverete poi magari passerete voi i nostri riferimenti. Un ragazzo una volta mi telefonò domandandomi, ma che cosa si fa in questa esperienza, che cosa si vive? E io ho detto, guarda, quella parola di Gesù, dove due o più sono unite nel mio nome, io sono in mezzo a loro, noi vogliamo metterla alla prova, vogliamo davvero vedere se è questo, se accade questo, se quando due persone, tre persone, una piccola comunità, si mette a vivere quello che Mariana aveva nel cuore, lo spirito delle beatitudini e la preghiera semplice di San Francesco, no? Vivendo, prendendosi cura l'uno dell'altro, vivendo uniti, se è vero che Gesù viene in mezzo a noi e abbiamo sperimentato che proprio in questa condivisione, che poi è prendersi cura l'uno dell'altro e permettere anche al Signore di prendersi cura di ognuno di noi, mettendo al centro l'eucaristia, la preghiera, la condivisione, se realmente questa parola si realizzava e abbiamo visto, abbiamo sperimentato e i giovani che hanno partecipato hanno ricevuto grazie sensibili, concrete, proprio da questo dono. Padre Massimo, un invito, questo che sicuramente facciamo anche nostro e continueremo a rivolgere ai nostri amici telespettatori, magari più giovani, che hanno questa ulteriore possibilità di vivere in maniera forte e concreta il messaggio evangelico. Io intanto ti ringrazio ancora una volta per la tua disponibilità e c'è un legame ormai instaurato con noi che ci teniamo a mantenere saldo anche in futuro. Magari anche a ridosso stesso, subito dopo queste esperienze, potremmo tornare per parlare dei frutti di quello che i giovani avranno vissuto in questa esperienza. Se mi permetti anche questo ricordo, l'esperienza confluisce poi in un grande concerto che faremo ad Assisi insieme con i De San, il 18 di agosto. concluderemo questi 15 giorni di vita insieme, in comunità, con un piccolo pellegrinaggio ad Assisi e con una festa, una festa dove racconteremo testimonianze di vita cristiana e canteremo e loderemo il Signore per le sue meraviglie. Quindi tutti invitati, vi aspettiamo. Troverete su internet i riferimenti. Sì, faremo anche nei prossimi giorni riferimento al sito stesso della Fondazione Un Mondo a Colori e magari tornerò dando questa notizia proprio a ridosso dell'evento. Grazie Padre Massimo, buon lavoro. Grazie a te, grazie a te, grazie a voi.